ciao a tutti amici di youtube oggi siamo qua al giardino zoologico di Pistoia gireremo qualche video riferito agli animali con qualche battuta scrausa che fa abbastanza schifo e guarderemo se riusciremo a mettere qualche prank in atto e rendere questa giornata un pochino più divertente continuate a seguirmi iscrivetevi al canale e mettete like a video a dopo allora sono qua davanti al recinto dei lupi e niente vi volevo dire che semmai lupo vedete lupo però non si vede però vi volevo dire solo che se eventualmente lo vedete davanti a voi che percorre la strada state molto attenti perché è sempre è probabile che il lupo faccia un'inversione laggiù in lontananza vediamo degli alpaca e sapete qual è l'attore preferito degli alpaca alpachino e c'è la zebra e ci sono rimasto male perché è a strisce quando in realtà io ho sempre saputo che una zebra pua ma che bella novità in teoria ci dovrebbe essere l'elefante però non c'è perché è andato nel frigorifero ha aperto il frigorifero ha visto tutte coca cola e ha detto elefante eccoci davanti al serpente assonaghi ora non so che succede assonaghi proviamo a cantare vediamo se diventa un altro animale